Scaduto il termine degli apparentamenti, il candidato Micichè ricombatte il centrodestra che lo appoggia in toto, mentre l'uscente sindaco Firetto non ne fa alcuno, restando solo con il sostegno delle sette liste che lo hanno già appoggiato. Forse Italia, Fratelli d'Italia, diventerà bellissime ODC che al primo turno hanno sostenuto Zambuto raggiungendo il 17,9% dei voti, sosterrà Franco Micichè che avrà anche l'appoggio delle sue tre liste civiche e dal movimento di Fusaro, Vox Italia. Di fatto è stato firmato solo da diventerà bellissime Forse Italia, mentre il sostegno sulla parola è stato dato da Fratelli d'Italia e da UDC. E anche quello politico della Lega di Salvini, pur non avendo avuto alcun consigliere comunale eletto, gli accordi politici evidentemente rispecchiano quelli di Palermo che vedono il sostegno in giunta al Presidente Nello Musumeci e vengono così ribaltati anche nella nostra città. Micichè conferma i suoi assessori già presenti nella prima fase del voto e sono il dottor Aurelio Trupia, commercialista, Marco Vullo, consigliere comunale uscente, eletto con più voti nella sua lista, Francesco Piccarella, esponente del mondo imprenditorale ai vertici regionali di Commercio Sicilia, Giovanni Vaccaro, noto cardiologo agrigentino dell'ospedale San Giovanni di Dio, mentre Roberta Lala di Vox Italia prende il posto del filosofo Diego Fusaro, ideologo del movimento stesso. I nuovi entrati per via dei nuovi accordi politici intercorsi sono, in quota diventerà bellissima, nominato Gianni Tutto lo Mondo, mentre per Fratelli d'Italia è stato designato Costantino Ciulla, per Forza Italia Nino Costanza Scinta. Per Calogiro Firetto non c'è stato alcun apparentamento che corre da solo con le sue sette liste civiche, Lillo Firetto cambia solo tre assessori rispetto al primo turno. Escono così Antonio Sutti, Giorgio Buongiorno e Gian Domenico Vivacqua. Riconfermati invece in quota rosa Tania Castronovo e Giorgia Iacolino. Ritorno invece Nello Ame, l'assessore uscente con delegale Ecologia, il dottor Nino Amato, Mario Fontana, figlio dell'onorevole Enzo, Pasquale Spatario, Alfonso Mirotto, in quota delle liste di Pullara, Onda e Noi. Entra pure Gioacchino Alfano della lista Andiamo Avanti con 322 preferenze come assessore designato. Ma quale sarà il nuovo volto dell'Aula Sollano? Dovrebbe essere questo. 4 seggi toccheranno a Cambiamo Rotta e sono Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino. 3 a Uniti per la Città, Marco Bullo, Angelo Vaccarello e Ilaria Settembrino. 3 a Forza Italia, Simone Gramaglia, Primo Letto, Carmelo Cantone e Giovanni Civiltà. Facciamo squadra, Davide Cacciatore e Valentina Cirino. Diventerà bellissima Claudia Longi. Fratelli d'Italia, con Gerlando Piparo e Fabio La Felice. Due seggi Andiamo Avanti, Nino Amato e Mario Fontana. Due seggi a Buongiorno Agrigento, Piero Vitellaro e Margherita Bruccoleri. Due ad Agrigento Rinasce, Nello Amel, Alessia Bongiovi e uno per Onda, Pasquale Spataro. Un altro seggio scatterà tra il sindaco perdente, tra Micichè e Firetto.